Tragedia nel primo pomeriggio a Cantù in via Ricci. Un uomo di 31 anni è caduto, non si sa ancora se dal tetto o da un balcone, di una palazzina di oltre cinque piani intorno alle 13.30 ed è morto dopo essere stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù. Il giovane era apparso sin da subito in gravissime condizioni. Sul posto gli agenti della polizia locale di Cantù avevano trovato l'uomo riverso sull'asfalto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine e sul luogo è stato chiesto l'intervento del nucleo operativo dei carabinieri di Cantù che ha delimitato l'area per poter effettuare un sopralluogo. I primi testimoni ascoltati hanno riferito di un grande tonfo udito sulla strada ma nessuno di loro avrebbe assistito direttamente alla caduta. Ancora da chiarire la dinamica nessuna ipotesi resta esclusa. Gli agenti della polizia locale stanno indagando unitamente ai carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto. Sul corpo è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.